Buongiorno a tutti parliamo con Raffaele Iosa che insieme con altri sei esperti della materia da quasi un anno sta lavorando ad una proposta di grande interesse la cosiddetta cattedra inclusiva la proposta si sostanzia anzi addirittura in una in una proposta di legge che loro hanno scritto hanno presentato all'ultimo convegno sull'inclusione organizzato da Ericsson uno dei più importanti appuntamenti sul territorio nazionale e di lì in avanti hanno proseguito hanno organizzato diversi momenti di formazione di incontro con gli insegnanti di incontri nei territori sia per presentare la proposta ma anche per raccogliere esperienze che già sono state condotte in varie parti d'Italia. Diciamo solo una parola poi entraremo nel merito la cattedra inclusiva che cos'è? È una proposta per cui tutti i docenti del team devono essere formati per le attività per i processi di inclusione questo per evitare quello che è il problema maggiore che in questi anni abbiamo visto e cioè la delega all'insegnante di sostegno. Ecco questa 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 vostra proposta Raffaele sta andando avanti molto bene perché avete fatto molti incontri a livello nazionale ma adesso ci sono anche dei ritorni. Proprio in questi giorni l'Università del Molise ha predisposto un protocollo di ricerca sul tema della cattedra inclusiva. A questa ricerca potranno partecipare tutte le scuole italiane di ogni ordine grado ovviamente seguendo delle regole ben precise e questa ricerca servirà proprio a validare il modello della cattedra inclusiva al quale voi state lavorando da diversi mesi. Cosa te ne pare Raffaele? In sostanza dopo mesi e mesi di lavoro qualche risultato incomincia ad esserci? Mi pare sorprendente quello che sta accadendo, molto interessante per comprendere come funziona la scuola e anche va detto in controtendenza di quelle che sono le attuali politiche nazionali totale. Siamo partiti forse con un sogno cioè l'idea di rompere finalmente l'idea che il sostegno inteso come persona fosse la soluzione dell'inclusione immaginando invece che il sostegno è un'attività pedagogica e didattica di tutti per evitare il rischio che sentivamo molto grave di quella cosa che viene chiamata nel gergo copertura e cioè che perché un ragazzino da uno con un'altra sindrome va da scuola ci vuole continuamente un guardiano piuttosto che questa idea della copertura che porta all'isolamento non all'inclusione fosse possibile anche altro. Ci siamo resi conto nei fatti che sono molti di più le scuole che cercano di uscire dal rischio del ghetto dell'insegnante di sostegno e che provano a fare delle cose. Averle messe in rete e aver cominciato a rifletterci dal punto di vista scientifico pedagogico è già un risultato grandissimo grandissimo. Quante siano le stiamo raccogliendo. Questo vademecum che abbiamo prodotto da poco è una sorta di guida che aiuta ogni singola scuola ad orientarsi contro un altro rischio che c'è in ordine al tema della cattedra inclusiva. Quello del A non si può. Questo mito giuridicistico che tutto quello che è previsto nella scuola pare regolato da leggi peggio di quelle del codice della strada facendo notare invece come le attuali normative rendono del tutto possibile fare la cattedra inclusiva. Io aggiungerei anzi che le attuali normative, almeno quelle fondamentali, parlo ad esempio del regolamento dell'autonomia e delle leggi più che dei decreti, scopriresti che in realtà l'idea che l'inclusione scolastica è un fatto collettivo che coinvolge tutti è scritto molto più chiaramente dell'inverso. Eppure nella vita quotidiana il dramma è che in questi anni soprattutto per tante ragioni è accaduto che si è sempre di più accentuata la medicalizzazione, si è sempre di più accentuata l'isolazione con un aumento enorme di posti di sostegno, un'esplosione di cause fatte dalle famiglie contro i ministeri per avere ore di sostegno, quasi a pensare che l'inclusione coincide con il guardiano attaccato vicino all'alunno. Senti Raffaele, questa cosa che tu hai appena detto, cioè della necessità che molti sentono di avere il supporto della legge, cioè bisogna che lo dica la legge, ma forse non sarebbe male ricordare quello che si diceva alla fine degli anni 90 quando si lavorava al regolamento sull'autonomia il ministro Berlinguer diceva guardate che tutto quello che non è espressamente vietato è consentito, tu sei stato un estensore anche proprio di alcune parti del regolamento sull'autonomia, è così? aveva ragione Berlinguer a dire questo? Non sono stato un estensore, scusa il narcisismo, sono stato uno dei quattro amanuensi che hanno scritto anche i punti e virgola di quella cosa e in quella bellissima frase detta da Luigi Berlinguer si nasconde una parola che non c'è nel regolamento dell'autonomia, pochi se ne sono accorti, in tutto il regolamento dell'autonomia non c'è mai la parola classe, che significa che il modello organizzativo della scuola previsto per legge possibile non prevede la divisione dei ragazzi per classe, guarda che questo riguarda sia la dimensione orizzontale, prima A, prima B, prima C, prima D, ma anche quella verticale, prima, seconda, terza, quarta, secondo l'ordine. E l'idea che non è la classe come un'unità militare, un piccolo reggimento al modello di scuola, ma è invece la flessibilità. È su questa base che questa idea del tutto ciò che non è tassativamente vietato, per esempio ammazzare gli alunni, è possibile. Quando poi tu ti rendi conto invece che è la burocrazia che non ha venduto l'osso, se l'è tenuto e ha continuato ad ostacolare, a precisare, a governare le forme astratte che diventano poi pratiche concrete, con un modello poi che prevede nel dirigente scolastico spesso o una specie di sergente maggiore che deve stare attento a regolare la truppa, piuttosto che colui che guida una scuola a crescere. Ecco, il va de me, come abbiamo scritto, parte invece da una logica alla berlinguer. Tutto ciò che è possibile, come si può fare? Per esempio, se si fa una cattedra inclusiva, bisognerà scriverla da qualche parte, come si organizzano le persone tra di loro, non tanto per rispettare la legge, ma perché serve ricordarselo. Sembra sciocco, ma no. E altrettanto, a chi bisogna chiedere per fare una determinata cosa? Per la verità, nella nostra proposta della cattedra inclusiva non occorre chiedere niente a nessuno. Tutto ciò che arriva al nostro disegno di legge non avrebbe bisogno di una legge. E difatti il nostro disegno di legge ha il suo fondamento, non tanto sul principio generale che tutti si occupano di disabilità, ma su un megacorso di formazione di sei anni che forma tutti gli insegnanti finalmente a capirci qualcosa. Senti, Raffaele, forse lo avete ripetuto più di una volta, ma magari anche in questa circostanza è bene ribadirlo e sottolinearlo. La vostra proposta di cattedra inclusiva che prevede appunto la specializzazione, diciamo così, di tutti gli insegnanti che operano nelle classi con alunni con disabilità, ovviamente con una certa progressione. Tu hai detto che il nostro disegno di legge prevede sei anni, però questo non è finalizzato, non è finalizzato, lo sottolineo una seconda volta, a ridurre l'organico complessivo di cui le scuole oggi dispongono. È così? Ma certamente. Nessuno pensa che bastino gli insegnanti calcolati secondo la classe e la cattedra. Te l'ho già detto sulla battuta di Berlinguer e sul fatto che nel regolamento dell'autonomia manca la parola classe. Qui l'idea è che l'insegnante di sostegno è accompagnato, è partner, collabora, rompe la sua separatezza condividendo con i colleghi l'intero curriculum della classe o classi o gruppi che si formano. E allo stesso modo gli insegnanti curricolari, oltre che fare italiano, matematica, storia, geografia e così via, amplificano sempre queste loro discipline o altre attività modellandole secondo la testa, le emozioni, il livello del ragazzo con disabilità. Cioè non più la separatezza. Per usare un termine andare veloci, basta con la copertura del sostegno, ma non basta con il sostegno, ma con l'apertura del sostegno a tutti quanti. Ecco, senti Raffaele, la vostra proposta però abbiamo detto ha incontrato molto interesse nel mondo reale. Abbiamo parlato adesso di questa proposta di sperimentazione che arriva dalla Università del Molise, ma ha incontrato e sta incontrando anche degli ostacoli di non poco conto. Lasciamo da parte la posizione delle istituzioni, cioè la posizione ministeriale di cui parliamo dopo, però ci sono anche associazioni e società che si stanno esprimendo in modo nettamente contrario. Come mai? Perché succede questo? Perché negli ultimi vent'anni l'esplosione delle certificazioni, un eccesso di precocismo diagnostico, l'invenzione di nuove disabilità, invenzione, io così le chiamo, ha creato un nuovo mercato. Un mercato molto robusto, suggestivo, che spesso illude le famiglie alla guarigione di chissà quale malattia. È un mondo molto complesso. Un aspetto di cui si parla pochissimo, per esempio, è la grande diffusione di psicofarmaci con i bambini con disabilità, per dirne un'altra. Tutto questo mondo ha un'altra teoria, opposta alla nostra. E la nostra è quella della Falcucci del 1975, che l'inclusione nella normalità è bene, la separazione nella specialità è male. Questo è il più grande avversario che abbiamo, perché ha delle suggestioni. Pensa, per esempio, a quanti raccolgono soldi collegati alla dichiarazione dei redditi per fare ricerca, per fare sviluppo. Alcune di queste sono molto potenti su quello che sto dicendo. Ebbene, questo sta accadendo, una specie di rottura del mondo della disabilità, anche perché ci sono associazioni rappresentative delle famiglie che o insegnanti di sostegno o morte. Quelle, per esempio, che chiedono la cattedra solo di sostegno per tutta la vita, che è un ulteriore isolamento. Siamo quindi davanti a un momento molto interessante e drammatico contemporaneamente di quello che sta accadendo. Perché, guarda, io non vedo soluzioni adesso senza drammatizzare nei tempi. O si migliora l'inclusione o si ritorna in tempi più brevi di quanto si pensi a scuole speciali. Ecco perché il va-de-me-cum nostro suggerisce di guardare non solamente l'aspetto operativo, appunto, che si facciano le firme su dei documenti, ma come si potrebbe organizzare in un modo molto flessibile, ma mirato caso per caso. Devo anche dire che stiamo cominciando a raccogliere ormai un abbondante numero di casi e che quindi il nostro sito aumenterà la presenza di storie e anzi vorremmo arrivare nel tempo a costruire una rete di scuole che possa raccontare nei fatti quello che sta accadendo. In più, l'Università del Molise ci mette sopra un gioiellino che è importante, cioè la ricerca. E cioè risponde alla domanda o vorrebbe rispondere alla domanda ma funziona? E che cosa funziona meglio? Cosa funziona peggio? Che è il grande ruolo che dovrebbe avere l'Università, no? E quindi le scuole che fanno pratiche inclusive possono avere con l'Università del Molise una possibilità di studiarsi, non solo di essere studiate, di fare ricerca con loro e quindi la scuola diventa anche luogo che fa ricerca, non solo che la subisce, no? Per crescere. Ecco, e qui arriviamo all'ultima questione della quale io vorrei parlare con te. Abbiamo sentito cosa sta succedendo nelle scuole, abbiamo sentito cosa è accaduto nei numerosi incontri che voi avete fatto, ci hai parlato anche della iniziativa della Università del Molise, di questo progetto di ricerca e di sperimentazione, però non dobbiamo dimenticare che l'istituzione, il ministero, dall'altro lato pare andare in tutt'altra direzione perché è di queste ore la notizia che il Parlamento sta convertendo in legge il decreto 71 che è un decreto che dice in sostanza che tutti i docenti precari che hanno almeno tre anni di servizio sul sostegno possono partecipare a dei corsi di formazione per conseguire la specializzazione, corsi, diciamo così, facilitati rispetto a quelli che si sono svolti finora. Sono corsi da 30 CFU organizzati non più dalle università ma dall'indire. Quindi questo significa, secondo molti, lo stesso Ianes per esempio lo ha sottolineato, significa che il livello della formazione, la qualità della formazione potrebbe decisamente calare. È così? Sì, sì, altro che potrebbe, sicuramente calerebbe perché dietro a queste operazioni che sono operazioni clientelari ed elettorali, a mucchio gente, le butto dentro in tutti i modi possibili, il governo, la politica risponde a due temi. Il primo di non aver governato bene in passato il tema della qualità dell'inclusione. Il secondo, quello di avere una pressione fortissima da parte delle famiglie con montagne di cause nei tribunali. E quindi che cosa fai? La mucchiata. Io la chiamo a mucchiata delle candy candy, senza neppure offedere le candy candy. E cioè di chi si pensa possa bonariamente star vicino ad un bambino con un po' di ore di aggiornamento, no? E via, la buona vada come vada e intanto muti dentro. Gente, il paradosso è che parallelamente invece sono sempre meno gli esseri umani con una qualche laurea o un titolo di studio che avrebbero voglia di farlo agli insegnanti di sostegno. E chi lo fa è proprio, come dire, il fondo del sacco di gente che non ha avuto alternative finora per avere un qualche lavoro. Non siamo affatto su scelte di qualità. Serve solo a fare mucchio. Serve solo però a consolidare l'idea che l'inclusione si fa con gli insegnanti di sostegno. Ti voglio ricordare che negli anni 80 e 90 per diventare insegnanti di sostegno i corsi erano biennali ed era una roba seria. Veniva fatto dai provveditorati agli studi, assieme alle università. Erano quindi molto di territorio. C'era meno business di quello che c'è adesso. Gli insegnanti non pagavano per fare i corsi di formazione per diventare insegnanti di sostegno. Oggi si paga. Insomma, sta diventando un mercato vergognoso che non aumenterà la qualità, porterà la fuga. Appena entrano dentro le scuole questi colleghi cercheranno in tutti i modi di andarsene via e in genere tornare a casa. Ecco perché credo anche che questa proposta che sta ormai arrivando a legge fallirà, sarà un ulteriore fallimento perché non porterà a qualità, questo non c'è alcun dubbio, ma non porterà neanche a persone reali in grado di poterlo fare. So che in alcune regioni italiane, per esempio, l'ultima serie dei TFA non è stata riempita perché non c'è gente che ha voglia di farlo. Penso al Friuli, per esempio, no? E quindi bisogna cominciare a pensarci seriamente. Paradossalmente la nostra idea che tocca a tutti è la più semplice, la più facile da realizzare, non la più complicata. Ecco perché leggete Don Emekum, approfondite se avete dei dubbi, mettetevi dentro ad una rete. Non solo è possibile, ma è bello. Bene, ringraziamo davvero di cuore Raffaele Iosa per questa bella e appassionata chiacchierata che abbiamo fatto con lui e ovviamente auguriamo a lui e al suo gruppo di lavoro di riuscire ad andare avanti, a realizzare le cose che stanno scritte nella proposta di legge e anche a realizzare questo progetto di costruzione di una rete di scuole a livello nazionale che possa sperimentare concretamente il modello della cattedra inclusiva, ricordando quello che appunto lui ha detto durante questa chiacchierata e cioè che in realtà non c'è bisogno di una legge particolare, non c'è bisogno di una circolare ministeriale che autorizzi. Gli strumenti normativi ci sono già, ci vuole la volontà di farlo e voi in questo va de me cum appunto avete anche dato gli strumenti diciamo formali per poter mettere in piedi questa attività. Grazie ancora a Raffaele Iosa, mille auguri di buon lavoro. Grazie a tutti.